E adesso parliamo di coronavirus in calo in tutta Italia. Il tasso di occupazione per pazienti covid negli ospedali rispetto a una settimana fa tanto che tutte le regioni sono classificate a rischio basso secondo il Ministero della Salute. Intanto in Puglia sono oltre 1300 in un anno le persone con sindrome post covid seguite dai medici del Policlinico di Bari. Ascoltiamo. Il Policlinico di Bari ha seguito in un anno oltre 1300 pazienti con sindrome post covid. Sono tre gli ambulatori specializzati nella presa in carico nel trattamento dei soggetti che a seguito della malattia da covid-19 hanno sviluppato difficoltà respiratorie e di concentrazione, ansia, depressione o persistente senso di stanchezza. A seguire i casi di post covid sono gli ambulatori delle unità operative di medicina interna, pneumatologia, malattie infettive. Le attività dell'ambulatorio post covid sono iniziate a dicembre 2020 dopo la prima ondata pandemica e molti casi hanno completato il percorso entro 12 mesi dopo la guarigione. Fino alla fine di gennaio 2022 sono stati visitati circa 1300 pazienti nei tre ambulatori con un'età media di circa 49 anni. I sintomi più comuni rilevati in circa il 30% sono astenia, difficoltà respiratorie, difficoltà di concentrazione, ansia, depressione, spiega il professor Portincasa che attraverso l'ambulatorio post covid di medicina interna ha seguito circa 400 pazienti. Questi sintomi possono avere nuova insorgenza o persistere dopo l'iniziale guarigione dal covid. Possono essere presenti con differente intensità nel corso del tempo o scomparire e successivamente recidivare. In alcuni casi abbiamo notato persistenza di riduzione dell'olfatto e riduzione della percezione dei sapori o caduta dei capelli, specialmente nelle donne. La maggior parte dei pazienti seguiti negli ambulatori per il post covid è stata inserita in un programma di follow up a medio e lungo termine, che permetterà di valutare meglio l'evoluzione del nuovo quadro clinico, ancora in fase di studio e di valutazione, da parte della comunità scientifica internazionale. Al momento, conclude Portincasa, non esistono ancora protocolli terapeutici validi e universalmente applicabili. Le terapie variano da caso a caso e possono comprendere farmaci sintomatici, indicazioni su eventuali modificazioni di dieta e stili di vita, integratori, supporto psicocognitivi.